Una candidatura di particolare autorevolezza l'ha definita il primo presidente della Corte di Cassazione, Pietro Curzio. È stato il momento in cui questa mattina a Palazzo dei Marescialli, sede del Consiglio Superiore della Magistratura, si è capito che Giovanni Meliglio sarebbe stato eletto in prima battuta procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, senza passare attraverso il ballottaggio che tutti pronosticavano con Nicola Gratteri. Infatti i vertici della Cassazione, presidente e procuratore generale, che normalmente non partecipano al voto, hanno deciso di pronunciarsi scegliendo subito Melillo. Il procuratore di Napoli, 61 anni, foggiano, all'anagrafe ma napoletano d'adozione anche professionalmente, ha un'esperienza ai vertici della magistratura più unica che rara. D'apretore a inizio carriera nel napoletano a coordinatore della direzione distrettuale antimafia partenopea, a sostituto della direzione nazionale antimafia, ma anche magistrato addetto alla segreteria generale del Quirinale, fino a diventare capo dipartimento del Ministero della Giustizia via Renula, con Andrea Orlando. Da quasi cinque anni, dal 2 agosto 2017, era capo della procura napoletana, la più grande d'Italia, che ha completamente riorganizzato in pull e gruppi di specializzazione. Grazie.